Fortunatamente solo un ferito dal grave incidente stradale avvenuto questa mattina in una zona semicentrale di Campobasso, nei pressi della chiesa di Sant'Antonio di Padova. Ore 10, via Principe di Piemonte, un uomo di circa 60 anni di età, si è ribaltato con la propria auto, un SUV Volkswagen Bianco. Le cause del sinistro sono ancora sconosciute, probabilmente un malore dell'uomo che ha colpito una Fiat Panda parcheggiata al lato della strada, provocando l'impatto ed il successivo ribaltamento. Le persone sul posto hanno estratto l'uomo dall'auto, praticandogli anche un massaggio cardiaco. I sanitari del 118, allertati e recatisi subito sul posto, hanno nuovamente effettuato la manovra di rianimazione e successivamente portato l'uomo d'urgenza all'ospedale Cardarelli di Campobasso. Sul posto anche il personale dei vigi del fuoco e della polizia locale per i rilievi del caso e per il ripristino della circolazione sulla strada.